Slayton, roll sound. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera a tutti, siamo a Torino, non a Berlino, siamo rientrati oggi in città, no, stiamo giocando naturalmente, siamo negli studi RAI di Torino perché stiamo seguendo in questi giorni Alberto Crespi ed Enrico Magrelli, stiamo seguendo questa edizione che è la numero 32 del festival e mentre ascoltavamo gli spot il mio socio di conduzione era preso dalla lettura perché siamo veramente molto contenti, finalmente il libro è arrivato. Il libro è arrivato, adesso lo appoggio qua ma ricomincio a leggerlo alle 7.45 appena finiamo, dopo che ci siamo salutati. 19.48, naturalmente è Hollywood Party, c'è un sito ve lo ricordo olivoparty.rai.it, se volete scaricare le puntate in podcast ma trovate anche le foto, trovate tantissimo materiale, la versione estesa dalle nostre interviste, in questo momento c'è anche a disposizione un cofanetto Vittorio De Sica in occasione dei 40 anni della morte, non ci sono notizie clamorose, e poi anche se ci fossero le, così pensavamo di pospondere, le renderemo meno clamorose, le presenteremo mai. La vera notizia per noi è che abbiamo tra le mani un libro. Sì, ci hanno finalmente portato questo libro che attendevamo, che io ho avuto l'occasione anche di leggere chiare in parte, insomma grazie all'amicizia con Domenico Monetti e Luca Pallanc che l'hanno curato. è un libro edito da Rubettino e si intitola Se non ricordo male, frammenti autobiografici di Giulio Questi. Buonasera Giulio, benvenuto. Eccomi qua. Ciao, bentornato. Giulio lo dice con l'aria di reancio a parlare di un libro. No, infatti era stato da noi un po' di mesi fa per parlare del tuo libro di racconti, della stagione, della lunga stagione che ti ha visto protagonista come partigiano questo libro arriva, sono frammenti autobiografici, quindi sono tanti piccoli flash raccolti proprio da Domenico e da Luca, Domenico Monetti e Luca Pallanc, e sei qui a Torino non solo per presentare il libro, ma perché il Festival di Torino ti dedica un omaggio e fra un'ora circa al Cinema Massimo incontrerai il pubblico e presenterai uno dei tuoi film. Giulio, quanto è stato faticoso convincerti a mettere insieme questi frammenti di autobiografia? Sono stati bravi loro, Pallac e Monetti, che sono venuti a casa mia tante volte con i registratori, io raccontavo, chiacchieravo in libertà, aiutandomi sempre con un bicchiere di whisky, per cui erano parole in libertà che andavano. Sono stati bravissimi a sbobbinare tutto e a gettare una prima base, inventando dei capitoletti che poi sono rimasti nei titoli, anzi, quando poi io ho ripreso in mano il libro, dandogli una mia scrittura scritta e non più solo parlata, questi titoletti sono rimasti e ne ho anche inventati e aggiunti altri, scrivendo anche altro testo, insomma. Quindi il libro l'hai alla fin fine scritto tu, insomma. L'ho scritto, sì. E ricordiamo il libro di cui Giulio è venuto a parlare l'altra volta, Uomini e Comandanti, uscito per Einaudi, sono i racconti di Giulio Questi sulla sua esperienza di partigiano e non solo, perché gli ultimi arrivano fino a tempi più vicini a noi. Insomma, il 2014 è l'anno in cui molti hanno scoperto, qualcuno già lo sapeva, in cui molti hanno scoperto come Giulio Questi sa scrivere. E io ti rinnovo i complimenti per come sono scritti sia quel libro che questo, Giulio. Ok, grazie, li accetto, sono contento. È l'anno dei libri. È l'anno dei libri. Non so se te l'aspettavi, se te l'avessero detto qualche anno fa. Tutto è cominciato un anno fa, no. No, veramente con Monetti e Palan, che è cominciato tre anni fa, credo, perché per un anno e mezzo intero venivano. Si presentavano continuamente. Eh, mi stavano addosso. Sono stati bravissimi. Che poi hanno curato tutta una filmografia filologicamente accuratissima. Non so come ringraziarli, ecco. Certo, questi frammenti autobiografici sono frammenti, lo diciamo per chi ci sta ascoltando. Cercate questo libro perché veramente c'è un percorso dentro il cinema italiano, non solo italiano molto interessante. Il mio socio continua a sorridere perché trova delle pagine e degli aneddoti. Sto leggendo appunto questi titoletti. Che sono divertenti. No, sono divertenti. Sono emozionanti. In giro con le Corbusier. A lezione di whisky da Orson Welles. La profezia di Vittorini. A casa di Visconti. Aiuto regista di Zurlini. Una nottata indimenticabile con Ferreri. Possiamo immaginarci. Senza una lira a pranzo da Parri, ovvero Ferruccio Parri e tanti tanti altri incontri. Raccontacene uno a tua scelta, Giulio. A lezione di whisky da Orson Welles. Sì, questo ci interessa molto. Orson Welles. Beh, l'ho incontrato su un bancone di bar a Madrid. Mentre io stavo preparando il mio se si vive o spara a Madrid. E quello era un albergo di incontri cinematografici. Io ero in attesa del mio produttore romano, che era Iacovoni, che era scomparso. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Ed ero in attesa. E io vedo al bancone del bar Orson Welles, che sta bevendo, e sento l'ordinazione. Ha ordinato un whisky. Erano le undici del mattino come aperitivo. Molto anacquato e con molto ghiaccio. Un bicchierone, un beverone. E io ne ho chiesto subito uno uguale. E da quel momento io ho imparato a bere quel whisky allungato nelle ore difficili della giornata. Oppure quando fa molto caldo, che sei giù e ti vuoi tirare un po' su. Eh, ho quel beverone miracoloso che ho imparato d'Orson Welles. Che è ricostituente. Quindi funziona. Non fa ubriacare e ti tira su. Non fa ubriacare, no. È un alcol sottile che entra, raggiunge i capillari e ti fa diventare intelligente. Segnatevelo a casa. Sì, bevetelo. Noi da domani, prima di andare in onda, lo faremo. Fatevelo in questo momento mentre ci ascoltate. Intanto cosa sentiamo? Ascoltiamo qualcosa che è stato appena citato da Giulio Questi. Ehi, tu forestiero, siediti qui. Mi sei simpatico, ti voglio vicino. Hai visto come tratto i miei muchachos? Non ti tento a far parte della compagnia? Volete tirarvi indietro? A me la coscia! Ehi, cassa quel bambino. Ehi, dammi qua! Mangia, mangia e bevi. Vedrai che ti sentirai nostro fratello. I piaceri della tavola aprono alla porta i sensi. I sensi alla fratellanza, la fratellanza alle imprese virili. Direi alle imprese criminali. Tenere prigioniero un ragazzo. Ma c'è forse qualcosa di più virile del crimine? Non mi dirai che tu non l'hai mai conosciuto. Spari troppo bene con la tua pistola. Sì, ho avuto anch'io degli amici. Se con loro hai compiuto qualche delitto non del tutto stupido, forse puoi capirvi. Mangiare, bere e contemplare la propria vittima. Non c'è niente di più sensuale. Puoi giurarci. I miei ragazzi questo lo sentono. Li ho educati da maestro. Guarda con che appetito mangiano. Con che golosità bevono. E soprattutto come guardano il bucciaccio. Questo appunto se sei vivo spara. Quando appunto hai incontrato poi Orson Welles. Tra i tanti capitoletti stavamo vedendo, uno che ci ha colpito molto, Giulio, questi è che pranzi io, Gasman e Rossellini. Erovate compagni di tavola? Siamo stati compagni di tavola un paio di volte. In quanto io avevo fatto il passo con la Juliette Meniel, che era la compagna di Gasman allora. E niente, gli era piaciuto molto a Vittorio. Mi aveva preso in simpatia conosciuto e mi ha invitato qualche volta a casa sua. O a piccole feste che faceva in comune con altri amici. O un paio di volte a pranzo. E un paio di volte c'erano Rossellini. Quel paio di volte. E per cui ho pranzato con loro. Ed erano pranzi sontuosi? No, no. Era il tavolo in una stanzetta. Ben serviti. I cibi non me li ricordo. Però la compagnia era bellissima. Ecco, soprattutto le parole mi ricordo. Era un periodo che Rossellini aveva scoperto la funzione della televisione. E ne parlava in continuazione. Di cosa si poteva fare di magnifico con la televisione. Aveva ragione. Sono passati molti anni. E poi è anche accaduto, insomma. Che oramai in televisione può passare certa roba veramente di alta qualità. Ecco. È un libro, sì. È un libro fatto veramente di grandi incontri. Ricordiamo che Giulio Questi è stato attore per Fellini, per Pietro Germi. Il ricordo di Fellini, per esempio, è abbastanza disincantato. Racconti soprattutto le lunghe attese sul set della Dolce Vita. Ah, beh, sì. Dove facevi l'aristocratico. L'attore è disperante. Infatti io sopporto solo essere attore come protagonista. Tutto il resto è noia. Perché se non sei protagonista aspetti che ti arrivi il tuo momento. E può passare giorni addirittura. Attesa in albergo, i cambiamenti dei piani di lavorazione, l'attore che... Tutto è un'attesa continua, snervante. Forse ti sei divertito un po' di più con Pietro Germi, che tu definisci il tuo sosia. Effettivamente una certa somiglianza c'era. Sì, perché nel periodo della mia vita sono venuto ad assomigliare a tre persone. Nell'incrociare degli anni, diciamo. Una di queste era Germi. Lo dico perché me lo dicevano tutti. E i baffetti tutti e due, no? Sì, figura. Ricordiamo che Giulio è uno dei protagonisti, dei protagonisti di Signore e Signori. No, dai. Beh, sì, sì, sì. Farmacista. È un film corale, però. È un film corale. Uno dei tanti personaggi. Beh, però vogliamo sapere chi sono gli altri due a cui hai somigliato. Allora, oltre a Germi, hai detto tre persone. Sì, Vittorini. Vero. E Folkner. Vero, anche quello. Hai capito? Vero, anche quello. Non certo adesso, ma nel passare degli anni. Io ho incorocciato queste somiglianze che mi dicevano gli altri. Tra l'altro... Belle somiglianze. Bellissime. Bellissime. Diciamo la verità. Tre belle teste e anche tre begli uomini. No, no, poi non tutti possono appunto vantare tre somiglianze così rilevanti. E tra l'altro domenica prossima per il Ceno alla Radio daremo proprio Signore e Signori. Ah, sì. E sul set come ti sei trovato tu? Ti sei divertito con Germi? Ti sei annoiato come con Fellini? No, 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 la noia non era certo Germi o Fellini, che anzi quando potevo stare con loro non mi annoiavo per niente perché avevamo un sacco di cose da dirci anche, di parlare, anche non del film che si faceva, di altre cose. E quando parlo di noia è la noia delle attese, ecco, quando un film poi è fatto di tanti attori non hai più gli orari sicuri di lavoro, devi aspettare che si crei la finestra buona per te nel lavoro. C'è un ascoltatore che ti chiede che tipo era Duccio, un ascoltatore che ci scrive spesso, lo salutiamo, che vorrebbe sapere che com'era umanamente Pietro Germi, se ti va di raccontarlo. E' facile dire che era un uomo un po' tutto d'un pezzo, diciamo la prima cosa, sia come aspetto, come impostazione di voce, come chiarezza nelle cose che voleva, ecco, un po' tutto d'un pezzo, io me lo ricordo così. Poi era una persona umanamente molto disponibile, simpatica, assolutamente sì, ecco, nessuna aria si dava, per l'amor di Dio, proprio per niente, una persona alla mano. E mi ricordo, scusate anche tanto, che in quel periodo stavo leggendo il libro Herzog, il libro dell'americano, importantissimo, è stato Nobel anche, non mi ricordo il nome. Mi pare che è di Saul Bellow. E' giusto, ed ero entusiasta del libro e continuavo a parlargliene, mangiavamo per un certo periodo, mangiavamo nell'ora di paranzo insieme e gli parlavo di questo libro e gli ho fatto una testa così, dicendo prendilo cavolo, leggilo, eccetera, e so che l'ha letto, l'ha comprato e l'ha letto, ecco. Gli ho fatto leggere Herzog a Germi, questo è una cosa importante. Questo è un tuo merito, sicuramente. Un ottimo consiglio. Allora, in uno dei capitoli, dei tanti capitoli, dei tanti frammenti autobiografici del libro, se non ricordo male, pubblicato da Rubettino, parla anche della musica dei tuoi film, Giulia. Sì. Quanto è stato importato, quanto è importante o non è importante la musica dei tuoi film? Come la musica per questi film che ho fatto è sempre venuta dopo che il film era stato montato, non erano certi film, certo dei film nati su una corona musicale. No, la corona musicale, merito dei musicisti, poi, è stata creata dopo, al di sopra del film. Per me, certo, a fin finito, la musica mi risultava importantissima, anche perché ho fatto delle scelte abbastanza felici come musicisti, perché ho avuto Vandor, che è veramente un musicista strepitoso di una grande cultura, poi musicale, incredibile. E poi Maderna, eh, Maderna. Infatti un ascoltatore ci dice proprio, potete chiedere a questi a proposito di Bruno Maderna, quindi, prego. Sì, Bruno Maderna, io me lo ricordo una persona piena di vita, scatenata anche nelle idee, nell'affrontare le cose. Mi ricordo che la colonna della morte ha fatto l'uovo, aveva degli effetti metallici dentro delle cose. Venne lui con delle lamiere e le suonò lui le lamiere, sbattendole, ma vè, con l'orchestra. Aveva una creatività sul suono immediata e soprattutto manuale, ecco, il suono lo produceva in qualsiasi modo. Con qualsiasi strumento. Con qualsiasi cosa, strumento. Allora, noi dobbiamo, volevamo stare almeno altre due ore. Alcuni giorni staremmo qua a chiacchierare con Giulio Questi. Solo appunto Giulio Questi ha un appuntamento proprio. Ce lo chiedono gli ascoltatori, ridiciamo il titolo del libro. Se non ricordo male, frammenti autobiografici Giulio Questi, raccolti da Domenico Moretti, Monetti, scusate, e Luca Palla, edizioni Rubbettino. Sì, questo è il titolo del libro. Noi ringraziamo Giulio Questi e ascoltiamo proprio un trailer di La morte è fatto l'uovo dove credo che si possano sentire esempi dei rumori di ferraglia a cui poco fa Giulio Questi alludeva. La morte è fatto l'uovo. Ciao Giulio. Ok, grazie. Grazie e tanti auguri. A presto. C'era un gran buio dentro di me, qualcosa di mostruoso che mi costrisceva ad agire, agire in fretta. Anna, 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 sempre Anna avanti ai miei occhi e io volevo Gabri, così dolce, così morbida. Era nei miei pensieri, nei miei sensi e la desideravo, Dio come la desideravo. Un cerchio da cui non potevo scappare, mi si stava chiudendo intorno, non c'era tempo. Mi spiavano, sapevano. Bisognava far presto. Presto. Il piano era preciso nella mia mente, lucido, perfetto. Dovevo uscire dal labirinto in cui mi trovavo e c'era un solo modo per farlo. Un solo modo. Sì, tutto era marcio intorno. La società che mi circondava. La gente. La società che mi circondava. Grazie per la visione!